A 48 ore dal tragico incidente sulla Monte Labattese in cui domenica ha perso la vita il 27enne macedone di Sant'Angelo in Vado, Sultan Ramadani travolgendo e uccidendo con sé pure la 32enne Martina Mazza di Vallefoglia, gli evitano gli interrogativi sulle premesse che hanno portato ad un simile strazio. Ci si chiede come sia stato possibile che Sultan Ramadani si sia continuato a mettere alla guida nonostante non avesse mai conseguito la patente e nonostante per tre volte sia stato fermato e denunciato proprio per guida senza patente. Ci si chiede come sia stato possibile di sequestrare quella BMW confiscata e riportarla alla portata della famiglia Ramadani. Nelle ultime ore l'avvocato Sergio Dini di Fermignano ha spiegato come la famiglia Ramadani avesse ricevuto l'incarico per recuperare quell'auto per necessità legate a esigenze familiari. Il giudice di pace di Urbina aveva revocato così il sequestro amministrativo, ma le raccomandazioni di lasciare quell'auto chiusa in garage sono rimaste inascoltate. Un'auto che tra l'altro era stata messa in vendita online dallo stesso Sultan Ramadani nonostante il divieto di vendita determinato dalla causa in corso sul veicolo. Un'auto ben nota ai carabinieri che domenica l'hanno notata la rotatoria di Villa Fastigi dando il via alla folle fuga del giovane Macedone. Tanti se e tanti ma alla base di una tragedia che ha ucciso Martina Mazza, mamma di un bambino di 5 anni che si era rimboccata le maniche come donna e come madre dopo una vicenda familiare travagliata culminata con lo sconcertante arresto del marito finito in manette nel giorno del loro matrimonio. Intanto è fuori pericola Alessia, sorella 28enne di Martina che era la guida della Fiat 500, così come migliorano le condizioni del fidanzato Kevin a bordo della stessa auto. Resta invece più grave il quadro clinico di Elvis Cola che era il posto passeggeri della BMW guidata da Sultan Ramadani.